oh va bene è uno scudo anti tempesta temporanea e se io ho ascolto su uscire si si lo vado ad attivare solo che so che dopo lo dobbiamo difendere un po di materiali so che mi dice cerca però non lo faccio perché mi servono i materiali quindi li da faccio così non che non me li dai materiali cos'è 6 qualcosa bianco c'è un 6 che abbiamo tre granate se lo fa dice 3 magari lo possiamo fare tre volte boh vero lo so va bene e attiviamo lo scudo anti tempesta che ha detto che temporaneo quindi via ma io ero lì vabbè ero dentro bello nooo ma si è bene non c'è male però è brutto e io bello ora io gioco alla battle royale io non c'è bisogno che me lo dici va bene porta via di legno fa assolutamente schifo di legno fa assolutamente schifo di legno fa assolutamente schifo sì ho preso salvo il mondo se ve lo chiedete allora ah me lo dice d'accordo mi riesce cosa mettere non capisco cosa devo mettere è un coso grande questo oppure se non era questo io l'ho messo perché è bello ah no solo questi va bene poi c'è un altro qua e qua non c'è niente va bene grazie per avermelo detto mi è molto utile ecco qui dovrebbe che sto facendo allora qua trappole queste qui mettiamo basta basta come la lancia ah va bene sei un'altra volta d'accordo va bene funzionato allora mi si richiude la porta bello ... ... ... ... ... ... Perchè ho fatto un'immaginazione? Perchè ho fatto un'immaginazione? Nooo! Da sud, ok, qua Vediamo le nostre trappole come funzionano Vediamo un po' Vabbè Tanta gente di sicuro non viene Chi è sto tizio? Ah ok, quindi quello fa lo scudo Ragazzi voi non sapete quanto cavolo sono contento di giocare a sta modalità Dai dai dai, venite Non vogliono venire, va bene, meglio per me Cioè dai Nooo! Aio! Ma se non venite Dai! Io li sto aspettando voi Quelle cose fanno male Dai dai, passa Dai! Aio! Va bene Allora cerco di non finire le munizioni Perchè ne ho un sacco, mi dispiacerebbe molto sprecarle Vieni qua Vieni qua Ok Ehi! C'era un coso L'ho visto Ehi Cosa mia Allora Vai, 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 vai Quanta roba Alien 8 Ah Se tengo premuto R mi fa le munizioni Ok Va bene Dai 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 Vediamo come funziona Via Eh no 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 dai Adesso voglio uccidere la gente però eh 5 4 3 2 1 Eccoci qua No Bene Peggio squadra Più comandante Capolandia Che bello Più giornalieri Più quelli Un puntabilità Che sarebbe No Non sono triste Come inizio Andiamo Benissimo Già 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 uno del livello 3 Secondo me Parere mio Andiamo bene Poi Io non lo so Dovremmo fare Un'altra partita al giorno Però Cioè ogni puntata Però Dai Per oggi secondo me Basta Due lama Due lama Va bene Apriamo i lama Trovo Sì 100 V-Bucks Belli Bottino Grazie Via Via Mamma mia Questo qui E' un bambino E poi c'è la spada Ciao lama L'ho attaccato io Sono triste Sono triste Non sono triste Questo qui è bello Perché Sì C'è un lama Plus Costa zero Va bene Ah questo è grande però Va bene Bello E va bene Ok Il base Questo E' pure un'altra Bello Un lama ogni settimana Se non sbaglio Dai Vabbè ma grazie Lecchino adesso Legge d'aria Che cos'è La tua armeria Incrementa la quantità di eroi Progetti Supersi di difensore Comunabili nella tua armeria Va bene Poi c'è questo Ramirez C'è un sacco di roba Quanta roba 21 Ma questa Sapete cos'è questa roba Questa roba Ve lo dico cos'è E' la roba che Ho shoppato E' nel passo Va bene Quanta roba ho Lama della tempesta Quanta roba bella Riscatto 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 Tre lama Devo fare Vai Prendi vai Prendi tutto Prendi Prendi Dai Veloce Riscatto cinque No Ne posso riscattare cinque Vabbè Assolutamente No sapete che faccio No No Non voglio riscattare uno Ne riscatto uno Ne riscatto uno Ne riscatto uno Ne riscatto uno perché ogni episodio ne faccio un altro Va bene Lama primaverile Va bene Lama primaverile Ciao Lama out Lama e chiudo Oh Bella Bello Progetto attrezzo Progetto bastone Bastone E vabbè No quello lo voglio La spada la voglio assolutamente Please bunt Please bunt Please bunt Non ci sono altre 9 Non ci sono Aspetta no Io devo andare avanti perché C'è un'altra spada leggendaria Si sono tra un leggendario Ma quanta roba Vai Vai E' una nuova qui Che ne babbo Assolutamente Ok Va bene Leggendario Ma sto trovando un sacco di roba Sto trovando un sacco Into the storm Lama Andiamo La Eh vabbè ninja Secondo me è meglio ninja Raro va bene sono finiti ora ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete un piacere se vi è piaciuto il video e se volete sempre supportare la serie e se la volete far continuare iscrivetevi al mio canale ciao ciao da Leonardo e questa nuova missione disponibile fortnite e fortnite salva il mondo sono troppo contento ciao ciao ciao